Tutto un bevuto d'acqua, capisce che è un lavoro, per me è una spesa che non voglio, io non lo so come faremo e poi se ne vengo fuori, perché tanto bene non sto, perché è una roba troppo grossa, non è mai capitata una roba così? A me mi fa rabbia che se certe cose dipendono, dici, capita, no, ma dipendono proprio dalla non curanza, dalla trascuratezza delle persone e questa è una cosa che fa troppo male. Esondazioni di corsi d'acqua, allagamenti in aere urbane ed extraurbane, frane, smottamenti e interruzioni stradali. E' questa la situazione che si è presentata venerdì mattina in molte zone della provincia di Pesero e Rubino e Dora. Sono tante le famiglie e gli imprenditori costretti a fare conti con i danni subiti. Mobili, vestiti, auto, biciclette, gran parte dell'arredamento degli oggetti, dei documenti è finito sott'acqua in queste abitazioni di via degli Schiavoni a Fano. E i residenti in questi giorni non hanno mai smesso di pulire, sistemare e salvare tutto il possibile. C'è chi piange, chi è arrabbiato, chi disperato e chi non avrebbe mai creduto di dover fronteggiare una situazione come questa. Sono vent'anni che andiamo avanti queste scogliere, io non la posso mica spostare la casa da qua. Anche perché molti dicono, perché la casa, io mi ricordo, un assessore, non faccio nomi, ha detto, ma perché la casa, lei dove ce l'ha la casa? Io ce l'ho dove ho potuto farla, perché la terra ce l'avevo lei. A lei non interessa dove ce l'ho, ma quando l'ho fatta l'acqua non c'era. Solo che adesso mi trovo con addosso un cadavere, perché io non posso andare avanti tutta la vita a vivere questa vita qui. Io, glielo dico sinceramente, questa storia, questa qui delle scogliere, mi ha sempre impressionato. Ma in questo momento io sono sicura, quasi sicura, che questa cosa a me mi stronca, a me mi fa ammalare. Dopo voglio vedere, voglio vedere cosa fanno, perché quando uno perde la salute, non è una porta, non è, non ha capito. È una cosa che proprio, io stamattina sto malissimo, perché più vado a vedere e più sto male. E adesso, niente, cerchiamo di rimettere in sesto la casa, di tenere aperte, di asciugare, accendere il fuoco. Poi anche la caldaia, di scaldamento niente, perché è data sott'acqua anche il bruciatore, quindi adesso sta lavorando il tecnico per metterla a posto. Invece l'energia elettrica, se ti ha posto, funziona? Sì, è stata una cosa buona. In che condizioni è la sua abitazione? È ridotta a macerie, dentro abbiamo buttato via tutto. Spero anche l'aset ci faccia, ci chiuda un occhio. È riuscito a salvare il salvabile? Niente, sotto niente, niente, televisione, mobili, lavapanni, lavastoviglie, tutto, tutto, frigo, freezer del congelatore grosso, è un macello. Automobili finite completamente sott'acqua, bagno e cucina che non sono più utilizzabili, ma almeno tanta solidarietà. È arrivata da amici e parenti che questa mattina si sono recati nell'abitazione per dare una mano. Speriamo che l'aset là davanti ce la tolga presto, cioè quando possono anche loro, però gli chiediamo scusa fin da adesso. Protezione civile, vigili del fuoco e tecnici del comune stanno continuando ad intervenire nelle zone più critiche. C'è chi si sente di ringraziarli per il lavoro svolto. Anche la protezione civile, guarda, sono stati d'aiuto molto. Anche i pompieri sono stati qua? Sì, ma una sacca di volte, molte, molte volte sono venuti. Vi hanno aiutati? Sì, sì, perché l'acqua cresceva continuamente. Che l'amministrazione si facesse sentire, si facesse vedere, non vogliamo tanto, ma almeno un pochino di solidarietà, perché quando vogliono i voti tutti corrono.